va bene l'importante è che in là non c'è niente è andata bene ma se si bloccava tu andavi in avanti invece la moto ti hai fatto pietà ecco io volevo fare quello ma non avevo voglia adesso lo puoi fare più dentro no spegnilo quello e vieni qua vieni qua in un po' adesso andiamo vieni qua vieni qua vieni qua hai visto come è andato tu e invece dovresti fare lo stesso che è detto non si può dire la nonna non ci faccio da una vita o te lo porti sempre in spalla lo metti nel zaino è sempre quello che ti aiuta è sempre quello che ti aiuta dai registra registri col telefono vieni qua vieni qua da me vieni qua da me non guardare i professionisti vai qua da me vai qua da me no in seconda questo l'hai fatto giù questo l'hai fatto giù devi aprire eh quanto giù no vai 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 quasi c'era quasi c'era quando io vengo su vado avanti invece devo andare indietro devi saltare devi saltare sulle penivelle adesso io lo faccio qua di traverso come di traverso? mi va giù nel fiume ma non così adesso andiamo? guarda come devi imparare che è meglio fare prima guardi da qua fa il giro ma guarda che questa qua è prima è un posto e così che devi imparare prima è prima ma perché ho fatto un posto con il terzo lì? perché io sono arrivato lì? io spaglio perché non vado indietro quando dopo poi non l'aiuto faccia dei cazzi che è quando arrivini che è il greco si può? non si può vai con l'unzio seve vai con l'unzio seve non posso devo farglielo a lui ostia e si e si per me esagero per me esagero pensavate che faceva il sasso